Bene, riprendiamo il processo a Marx che avevamo iniziato nella scorsa lezione. Nella scorsa lezione abbiamo dato la parola all'accusa, ovvero agli argomenti che Popper utilizza nel suo libro per mettere in discussione la filosofia di Marx e in particolare per dimostrare che Marx si era rivelato un cattivo profeta, ovvero le predizioni di Marx sarebbero state smentite in gran parte dalla storia successiva, in particolare dagli esiti contraddittori della rivoluzione russa. Dunque, ad essere messo sul banco degli imputati è, da una parte, il metodo di lavoro di Marx che Popper giudica non scientifico, ovvero non compatibile con la sua visione, che è quella legata al falsificazionismo o fallibilismo, ovvero una teoria deve poter essere continuamente falsificata, deve potersi sottoporre a una serie di verifiche ed eventualmente essere mutata strada facendo. Invece il marxismo, per Popper, ha tutte le caratteristiche di una sorta di dogmatismo, dunque di una visione ideologica non scientifica in quanto non modificabile, non adattabile alla realtà. Gli altri punti, invece, contenutistici che Popper aveva messo in discussione, aveva criticato, sono legati fondamentalmente alla cosiddetta concezione del materialismo storico, ovvero il fatto che la storia abbia un indirizzo ben preciso, fatale, razionalmente identificabile, attraverso una serie di leggi di sviluppo interne della stessa storia, in questo caso si parla di storicismo, e legate fondamentalmente alla componente materiale delle società umane. Questo è il motivo per cui si parla di materialismo storico o di economicismo. Inoltre, la teoria della storia come lotta di classe, secondo Popper, non è convincente, o meglio, è solo parzialmente convincente, va integrata con altre visioni, in particolare con un maggiore segno di rilevanza della politica sull'ambito squisitamente economico. Vediamo la difesa di Marx, dopo aver ricapitolato le ragioni dell'accusa. Innanzitutto Marx avrebbe, il Marx storico evidentemente, il Marx in carne ed ossa, perché a lui che diamo la parola, avrebbe rifiutato in maniera assolutamente recisa il titolo di profeta. Se andiamo a vedere la storia dello sviluppo del pensiero di Marx, l'autobiografia dello stesso Marx, ecco, apprendiamo, in primo luogo, che il giovane Marx prende progressivamente le distanze, per poi attaccare addirittura ferocemente i suoi antisignani socialisti, e in particolare il cosiddetto socialismo utopistico, quello di Owen in Inghilterra, o di Fourier e Proudhon in Francia. Le ragioni del socialismo utopistico per Marx avevano questo difetto di fondo, ecco perché vanno attaccate, vanno rifiutate, ovvero l'anteporre l'ideale socialista all'analisi scientifica, all'analisi critica della società Thucur e delle leggi di sviluppo storico. Quindi Marx, il titolo di profeta, lo rigetta, per così dire, a priori. D'altro canto, Marx prenderà progressivamente le distanze anche dall'Egelismo. L'altra scuola a cui si forma Marx, indubbiamente, è il cosiddetto Egelismo di sinistra, o meglio, quei pensatori che criticheranno, che riprenderanno il metodo di Hegel per criticarlo da sinistra, per così dire, per superarlo in senso evolutivo. Fondamentalmente Bruno Bauer, Feuerbach, Stirner, ecco, da questi personaggi, da cui pure Marx ha molto da imparare, prenderà a sua volta le distanze, quindi dallo storicismo di stampo idealistico, nonché dal socialismo utopista, Marx, diciamo, prende le distanze e, in questa maniera, getta le fondamenta di un nuovo approccio, che è quello, per l'appunto, del metodo scientifico, del cosiddetto socialismo scientifico, basato su una disciplina in particolare, di cui Marx è effettivamente l'inventore, ovvero l'economia politica. Ecco, se qualcosa di nuovo va attribuito a Marx, questo è la scoperta, l'invenzione, per così dire, della cosiddetta economia politica, scienza, peraltro, assolutamente nuova e assolutamente diffusa tra il XX e l'inizio del XXI secolo. Se andiamo nei nostri dipartimenti universitari, l'economia e commercio, ma non solo, l'economia politica è una delle discipline fondamentali. Allora, ecco, come iniziamo ad impostare la difesa? Ebbene, ecco, le critiche di Popper sono indubbiamente interessanti e in alcuni casi anche del tutto azzeccate, ma non si rivolgono tanto al Marx filosofo, al Marx pensatore, quanto piuttosto al cosiddetto marxismo o ad alcune forme di marxismo. E quindi chiariamo immediatamente questa distinzione. In italiano utilizziamo, gli studiosi almeno utilizzano, due aggettivi diversi. L'aggettivo marxiano e l'aggettivo marxista. L'aggettivo marxiano si riferisce to court al pensiero di Marx in sé per sé, così come è ricavabile dalla lettura e dallo studio delle sue opere. Quindi, se vogliamo giudicare il pensiero di Marx, dobbiamo rivolgersi alla lettera delle sue opere, delle opere che lui effettivamente ha curato e ha pubblicato. Quando utilizziamo invece il termine marxista, l'aggettivo marxista, ci riferiamo ad una serie di teorie, teorie che sono assolutamente plurali, cioè non esiste un unico marxismo, ad una serie di teorie posteriori a Marx o che iniziano ad avere luogo quando Marx ormai è anziano alla fine, diciamo, della sua produzione tra gli anni 70 e 80 del XIX secolo. Ricordiamo velocemente, Marx era nato nel 1818 e morirà nel 1883. Quindi sì, c'è un marxismo e il marxismo si evolve a partire, sì, indubbiamente dagli studi di Marx, ma non solo dagli studi di Marx. Un altro personaggio chiave della letteratura marxista, di quella che sarà la letteratura marxista, è il Friedrich Engels, l'amico di Marx. In questa fotografia li troviamo, fotografia decisamente rara perché risale agli anni, fine anni 70 del XIX secolo, quando Marx già è un po' avanti con gli anni, forse ha una cinquantina d'anni, ecco, con il suo amico Engels, Marx è il soggetto a sinistra, Engels a destra, e le rispettive consorti. Ed è esattamente di questo ci vogliamo occupare, cioè dell'uomo Marx, del pensatore Marx, da distinguere in maniera piuttosto chiara, piuttosto specifica, dai marxismi successivi. E allora, qui altra fotografia di Marx, non una fotografia del XIX secolo, una fotografia recente, risale alla produzione del film Il giovane Marx, che è uscito nel 2017, considerate ecco che un paio di anni fa c'è stato, per così dire, il bicentenario della nascita di Marx, che è stato festeggiato, ricordato in tante maniere, anche con questo film dedicato appunto alle vicende del giovane Marx. Se qualcuno avesse voglia di vederlo, è un film piuttosto interessante. Dunque, come dicevo, bisogna distinguere in maniera netta il pensatore Marx dagli esiti successivi, cioè dai diversi marxismi, sia ottocenteschi che novecenteschi. Oggi questo è assolutamente possibile, proprio perché Marx e i marxismi si sono definitivamente separati da interpretazioni ideologiche e politicamente indirizzate, anche piuttosto rigide, che erano quelle collegate al cosiddetto socialismo reale. Quindi la caduta del muro di Berlino, la fine dell'Unione Sovietica, la fine della guerra fredda, che risale ormai a trent'anni fa, sono passati trent'anni, quindi più di un quarto di secolo, ebbene, questo spartiacque storico paradossalmente dovrebbe tornarci utile o dovrebbe tornare utile alla comunità degli studiosi in primis, ma poi alla società civile, in generale, per ripensare Marx, cioè per riprendere Marx, le opere di Marx, quando parliamo di Marx parliamo delle sue opere, e leggerle con uno sguardo diverso, disincantato, oggettivo, o comunque filologicamente corretto, sottraendole al monopolio ideologico che aveva caratterizzato la rilettura, la ripubblicazione delle opere di Marx nel corso del ventesimo secolo. Questa è un'occasione importante che va colta, come ci ricorda il filosofo italiano Umberto Curi, che è anche un grande studioso di Marx, che ci dice esattamente questo, cioè il filosofo Marx va, una volta per tutte, finalmente spogliato da incrustazioni ideologiche e da manipolazioni politiche. Capite bene dove voglio andare a parare, ovvero le critiche di Popper per così dire si indirizzano non contro il Marx, non tanto contro il Marx storico, contro il filosofo Marx, quanto piuttosto contro il Marx dei Marxismi ed in particolare lo abbiamo già sottolineato del Marxismo-Leninismo, quindi dell'interpretazione sovietica in un periodo quello staliniano che è particolarmente critico, particolarmente orientato in senso ideologico. Dunque, questa distinzione dobbiamo tenerla presente. Marx va rivisitato perché evidentemente ha ancora molte cose da dirci, ma andiamo avanti. Jacques Derrida, un filosofo francese, non ci soffermiamo su di lui, non ci interessa, ma ecco, nel 92 pubblica un'opera a spettri di Marx, un'opera abbastanza significativa, perché è pubblicata proprio all'indomani della caduta del regime sovietico, quindi il cosiddetto socialismo reale nel 1991, insomma, nel Natale del 1991 finisce di fatto l'Unione Sovietica. L'opera di Derrida è un'opera piuttosto coraggiosa perché a fronte di interpretazioni che ormai davano per spacciato Marx e il marxismo in generale, ma accomunando ecco, il marxismo e Marx senza effettuare alcun tipo di distinzioni, no? Fukuyama aveva parlato, politologo americano, statunitense, di origine giapponese, aveva parlato di fine della storia, ecco, Derrida invece dice no, Marx bisogna rileggerlo, anzi, Marx va riscoperto proprio adesso e l'opera, ripeto, ha 28 anni, è stata scritta 28 anni fa, maggior ragione Marx dovrebbe essere riletto oggi. Ecco, sarà sempre un errore non leggere e rileggere e discutere Marx e insieme a lui tanti altri, anche al di là della lettura o della discussione di scuola, cioè quella marxista. Sarà sempre un errore, un venir meno alla responsabilità teorica, filosofica, politica, da quando la macchina per fare dogmi e gli apparecchi ideologici marxisti, Stato, partito, cellule, sindacati e altri luoghi di produzione dottrinale, sia ad Oriente che ad Occidente, aggiungo io, sono in via di estinzione, non abbiamo più scuse, solo alibi per distoglierci da questa responsabilità. Non ci sarà altrimenti avvenire, non senza Marx, nessun avvenire senza Marx, senza la memoria e l'eredità di Marx e comunque di un certo Max, del suo genio, di uno almeno dei suoi spiriti. Marx, come filosofo, dunque, è assolutamente importante e il filosofo Marx, lo vedremo adesso a strada facendo, effettivamente va difeso dalle accuse di Popper perché se Popper prende di mira una certa interpretazione del marxismo, che poi è una interpretazione storicamente data, in realtà accomuna, erroneamente, accomuna il filosofo, il pensatore Marx a questa critica. noi oggi possiamo permetterci con il senno del poi di distinguere i due piani e quindi di approntare una valida difesa in questa sorta di tribunale che abbiamo invastito, una valida difesa del pensatore Marx. La critica dello storicismo marxiano risulta difettosa sul piano storico-filosofico. Andiamo con ordine. Innanzitutto Popper attribuisce a Marx una dottrina, il materialismo storico, che non è propriamente marxiana, bensì piuttosto engelsiana, cioè l'autore del cosiddetto materialismo storico non sarebbe tanto Marx, perché nelle opere da lui pubblicate non troviamo alcun accenno chiaro al materialismo storico né alcuno sviluppo del materialismo storico, ma è piuttosto di Engels, l'amico, il collaboratore di Marx, che pubblicherà alcune delle opere, i libri successivi del Capitale, ecco, Marx in vita pubblica solo il primo libro del Capitale, i libri successivi, il secondo e il terzo, che erano in parte stati redatti dallo stesso Marx, saranno pubblicati due anni dopo la morte di Marx e il quarto libro invece sarà Farina del sacco di Engels. Dunque, distinguere i due pensatori, Marx ed Engels, a questo punto è assolutamente importante, sennò veramente facciamo di tutto un erba, un fascio, per così dire. Quindi, le due opere principali, per la critica dell'economia politica del 1859 e il primo libro del Capitale, pubblicato nel 1867, non contengono una formulazione compiuta del materialismo, dello storicismo marxiano, o meglio, del materialismo storico. Quindi, una parte delle accuse che abbiamo visto prima, mosse da Popper a Marx, cadono sostanzialmente nel, non colgono il loro obiettivo. Ecco, occorre distinguere il significato letterale della filosofia marxiana che va contestualizzato all'interno delle opere di Marx e poi all'interno di un percorso evolutivo che è quello dello studioso, dell'intellettuale. Anche qui, prendere un'idea, una teoria senza poi innanzitutto storicizzarla nell'ambito della macro-storia, per così dire, ma poi va anche storicizzata all'interno della vita di Marx. Marx è un pensatore estremamente complesso, ha un suo sviluppo ideale, alcune teorie che aveva abbracciato da giovane le supera fino addirittura a rigettarle. Ecco, quindi queste distinzioni vanno fatte in maniera chiara e distinta perché i processi li si fa agli individui per così dire, no? O meglio, la colpa, la responsabilità penale è sempre individuale. Dunque, attribuire una responsabilità a quello che si dice di quella persona o all'uso successivo che è stato fatto delle idee peraltro interpolate, rivisitate o veramente come dire, proiettate all'indietro sul personaggio Marx è assolutamente scorretto. Dunque, in particolare il problema di Popper è che lui associa in maniera acritica per così dire il pensiero di Marx alla rilettura che era stata fatta dai bolshevichi da qui i riferimenti alla rivoluzione russa Popper era arrivato a dire per l'appunto che la rivoluzione russa gli esiti della rivoluzione russa avevano contraddetto quelle che erano state le predizioni di Marx ecco perché Marx si è rivelato un cattivo profeta ma Marx non aveva nessuna intenzione di profetizzare alcunché e abbiamo visto prima avrebbe rifiutato il titolo di profeta tra l'altro lo abbiamo già detto anche nella scorsa lezione la critica che Popper muove a Marx va storicizzata l'opera di Popper è stata scritta negli anni 40 pubblicata a metà degli anni 40 quindi in quel clima di guerra fredda che evidentemente associa Marx e il marxismo al meno a Lenin ma addirittura al pensiero e all'operato di Stalin quindi la trasformazione indotta dal comunismo è avvenuta non attraverso una coerente o rigorosa applicazione del pensiero successivo all'opera di Marx del marxismo successivo all'opera di Marx o comunque è legittimo porsi questa domanda quindi ci possiamo chiedere fino a che punto si può considerare il comunismo una fedele trascrizione al piano politico dell'insegnamento ricavabile dagli scritti di Marx Marx è il comunismo cioè si può stabilire questa identità Marx il Marx è filosofo quindi le opere di Marx le opere che Marx ha pubblicato corrispondono in sé per sé al comunismo è così semplice la questione la dottrina comunista coincide appieno con il pensiero di Marx o meglio il marxismo-leninismo è effettivamente fedele alla lettera delle opere di Marx o non è anche fuorviante in alcuni casi lasciamo questa questione a livello di domanda perché sarebbe troppo complesso analizzarla ma insomma una prima risposta che poi argomenteremo è no un conto è Marx un conto è il marxismo ci sembra anche la risposta più ragionivole ecco Marx ha diciamo lavorato a tre diversi tipi di opere ovvero nella produzione marxiana possiamo individuare in primo luogo i testi finalizzati alla pubblicazione che effettivamente sono stati pubblicati da Marx in persona e tra i testi che abbiamo citato prima c'è per la critica dell'economia politica e il primo libro del capitale queste sono le opere a cui Marx lavorerà nel corso di un ventennio dedicherà vent'anni della sua vita insomma tra gli anni 50 agli anni 60 del XIX secolo Marx lavora esclusivamente alla stesura di questi due libri in particolare al primo libro del capitale corregge Marx lavorava in maniera assolutamente maniacale era ultra analitico quindi prima di pubblicare o di mandare al suo amico Engels che leggeva gli sviluppi i progressi quindi il work in progress dell'opera marxiana beh ci pensava non una volta ma almeno dieci volte era pronto a recepire ogni critica non è semplicemente un lavoro di lima letterario è proprio un lavoro di analisi di raccolta dei dati Marx si mette lì in pianta stabile nella British Library a Londra nella biblioteca centrale una sua postazione dedicata per così dire peraltro Marx in quel periodo vive da esule a Londra nel quartiere di Sov che all'epoca era un un quartiere assolutamente degradato quindi lui assaggia in prima persona anche come dire i morsi della miseria che le vicende familiari di Marx sono molto complesse quindi diciamo non si dedica alla cura trascura la famiglia trascura anche la sua situazione economica si dedica esclusivamente a questi studi e li porta avanti in maniera consapevole mirata con un progetto ben definito che sfocia per così dire nella pubblicazione di queste opere il secondo ambito dei testi marxiani contiene raccoglie quelli che Marx ha eliminato volontariamente a seguito di successivi sviluppi del suo pensiero di revisioni di ripensamenti che sono assolutamente leciti quindi possiamo considerare è corretto è filologicamente corretto portare a come dire a prova della missione ideologica di Marx dunque delle false dottrine marxiane delle false profezie marxiane è corretto prendere delle opere che Marx ha rivisitato ha rifiutato ha come dire espunto dal suo curriculum perché le ha superate in altre dottrine ecco è corretto prendere i contenuti di queste opere e spacciarle per opere marxiane è una domanda retorica evidentemente poi al terzo gruppo appartengono invece i testi che hanno una che vengono pubblicati con un'immediata finalità politica a volte sono stati pubblicati anonimi o sono stati pubblicati in vista di una scadenza politica elettorale contingente Marx oltre ad essere stato un grande studioso era anche attivo dal punto di vista politico per esempio è interessante la storia del celebre manifesto del partito comunista quello del 1848 che è stato gettato giù in un paio di mesi non dal solo Marx ma da Marx ed Engels che era stato commissionato da un partito diciamo di orientamento comunista evidentemente inizialmente si chiamava la Lega dei Giusti poi la Lega dei Comunisti ecco questi soggetti con cui Marx è in comunicazione affidano a Marx ed Engels la stesura di questo libretto che è una sorta anche di come dire di cartello elettorale di manifesto elettorale di propaganda del medesimo partito quindi la situazione è assolutamente contingente stiamo tra il 1848 e il 1849 quindi anno assolutamente decisivo hanno spartiacque per le sorti della storia europea viene gettato giù in due mesi viene steso in due mesi viene steso su commissione e raccoglie tra l'altro gli sviluppi del pensiero giovanile di Marx ecco quindi considerare il manifesto come una delle opere principali di Marx da cui ricavare il pensiero diciamo l'ossatura l'infrastruttura fondamentale del pensiero di Marx è quanto anche qui in questo caso scorretto anche se Marx non rifiuterà espressamente le dottrine del manifesto il contenuto del manifesto ma evidentemente lo supererà poi nelle opere successive un caso interessante è quello dell'ideologia tedesca un'altra opera assolutamente importante opera importante anche perché nell'ideologia tedesca troviamo effettivamente una serie di riferimenti al cosiddetto materialismo storico quello che Popper aveva messo in questione l'opera viene redatta innanzitutto a quattro mani quindi c'è sia Marx che d'Engels ma poi da entrambi gli autori quindi non dal solo Marx non verrà pubblicata ma verrà abbandonata queste sono parole di Marx e di Engels alla critica roditrice dei topi quindi superata le idee che abbiamo espresso nell'ideologia tedesca le rifiutiamo non le consideriamo mature le abbiamo rivisitate le abbandoniamo lì pensate quanto è strana la vicenda editoriale dell'ideologia tedesca che è considerata dal marxismo e dall'unico pensato di marxismo come una delle opere fondamentali di Marx ecco quindi abbandonata da Marx alla critica roditrice dei topi sarà poi ritrovata sarà poi ripubblicata nel 1932 quindi oltre mezzo secolo dalla morte di Marx attraverso una bozza che era stata ritrovata tra le carte di Marx pubblicata nel 1932 a cura dell'ufficio stampa dell'unione sovietica in piena età staliniana quindi pensate che tipo di valore può avere questo tipo di pubblicazione Marx antimarxista anche qui è una provocazione ecco Marx il Marx storico sarebbe stato d'accordo con Popper cioè un eventuale Marx redivivo nel 1945 avrebbe fatto sue le critiche che Popper muove Marx in realtà le sta muovendo al marxismo in che senso richiesto di stilare il programma del partito operaio francese nel 1882 altra operazione lo capite da soli è assolutamente estemporanea un anno prima della morte del maestro a seguito di alcune pesanti interpolazioni al suo testo Marx ebbe a dire con acume ed ironia che se quello era marxista quel che è certo è che io non sono marxista questo è tratto da una lettera inviata da Marx a Friedrich Engels al suo amico e a Bernstein un socialista tedesco quindi Marx già da vivo figuriamoci il Marx redivivo no? già da vivo Marx rifiuta l'etichetta di marxista in che senso? rifiuta le interpolazioni le rivisitazioni che diventano anche delle vere e proprie falsificazioni o dei fraintendimenti non è detto che le falsificazioni fossero volontari dei fraintendimenti della sua opera quindi io se questo è Marx io non sono marxista non prendo le distanze dallo stesso marxismo in una lettera a Maria Oceanina che è una patriota una rivoluzionaria russa nel 1883 Engels nel frattempo Marx è venuto a mancare Engels scrive quanto segue si ricorda quando dicevo che Marx stesso non è mai stato marxista durante la lotta di Bruce Malone e compagnia contro gli altri sono dei rivoluzionari francesi Marx disse una volta ridendo posso dire una cosa soltanto non sono marxista comunque sia Marx non manca l'autoironia nella migliore delle ipotesi ma di fatto già ancora vivo Marx prende le distanze dalle interpolazioni dai fraintendimenti della sua visione filosofica in un passo del capitale Marx afferma qui vediamo il Marx antistoricista quindi prima abbiamo visto il Marx antimarxista adesso vediamo il Marx antistoricista visto che le critiche di Popper si basano proprio sul materialismo storico sullo storicismo economicista marxiano Marx dice e questo lo dice in un passo del capitale opera da lui effettivamente pubblicata io non scrivo ricette per l'osteria dell'avvenire io analizzo la società e cerco di individuarne le contraddizioni che caratterizzano la società in questo modo baserò la rivoluzione su qualcosa di necessario lui sta dicendo in maniera assolutamente chiara che la sua missione in questo momento quello che lui intende per socialismo scientifico è analizzare il presente è analizzare la società che ha sotto gli occhi ed evidenziarne le contraddizioni quindi non scrivo delle ricette per l'osteria dell'avvenire non sto profetizzando alcunché ecco non voglio costruire castelli di carte tra l'altro non voglio ricadere nello stesso errore dei cosiddetti socialisti utopisti mi dedico piuttosto allo studio all'analisi delle contraddizioni presenti nella società contemporanea che è quella del capitalismo in particolare del capitalismo inglese che lui ha sotto gli occhi e che gli vengono messe continuamente sotto gli occhi anche dall'amico Engels mentre Marx di estrazione diciamo piccolo medio borghese anche se poi aveva sposato una nobile tedesca che poi condannerà a vivere nella miseria peraltro Engels invece era di famiglia ricca il papà di Engels era industriale quindi Engels aveva un osservatorio assolutamente privilegiato lui poteva vedere effettivamente quali erano le modalità di lavoro e le condizioni di vita degli operai inglesi a metà del XIX secolo quindi Marx si affida molto alle descrizioni che gli fa Engels e poi il suo studio analitico della società contemporanea si basa appunto su quella che è il suo metodo scientifico metodo scientifico sociologico ed economico economico politico assolutamente rigoroso nella corrispondenza con la redazione di un periodico russo Marx si preoccupa di scoraggiare l'applicazione delle tesi del capitale alla Russia del tardo XIX secolo e dice il carattere dell'accumulazione originaria non pretende più che tracciare la via mediante la quale nell'Occidente europeo l'ordine economico capitalistico uscì dal grembo dell'ordine economico feudale la mia critica insiste sul trasformare il mio percorso storico della Genesi del capitalismo nell'Occidente europeo in una teoria storico-filosofica della marcia trionfalmente imposta a tutti i popoli in qualunque situazione storica essi si trovino attraverso lo studio separato di ognuna di queste forme di evoluzione e attraverso il loro raffronto ci si potrà facilmente fare un'idea del fenomeno non ci si arriverà mai col passepartout di una filosofia della storia la cui verità suprema è d'essere soprastorica con queste parole con queste parole firmate da Marx di suo proprio pugno in cui Marx sta dicendo questo attenzione attenzione ad applicare le tesi del capitale alla situazione russa e lo sta dicendo nel tardo diciannovesimo secolo dunque anche qui se una delle critiche fondamentali di Popper a Marx è legata alla contraddittorietà dei risultati ottenuti sul campo dalla rivoluzione leniniana dalla rivoluzione russa è lo stesso Marx che decenni prima aveva preso le distanze guai ad interpretare ad applicare le categorie scientifiche a cui io sto lavorando qui sto lavorando nel capitale che riguardano in particolare l'occidente europeo come ho messo in evidenza con il neretto guai ad applicare alla situazione russa che è completamente diverso Marx non ignora affatto la diversità delle varie realtà delle varie società delle varie realtà europee ma poi verso la fine della sua vita si interessa in maniera assolutamente puntuale anche a notizie che gli vengono dalla Cina dall'estremo oriente dall'Africa è molto curioso il nostro Marx quindi disponibile a cambiare idea ma lui dice chiaramente attenzione attenzione bisogna studiare l'evoluzione di ciascuno dei popoli di ciascuna delle società in maniera separata non è corretto prendere l'unica unica categoria ed applicarla indistintamente a tutti i fenomeni sociali no non ci si arriverà mai per capire il fenomeno nel suo complesso non ci si arriverà mai con questo passepartout di una filosofia della storia quindi con uno storicismo che sia fondato su delle leggi assolutamente univoche inconfutabili dogmatiche ecco se applichiamo queste leggi e quindi creiamo una visione rigidamente storicista non cogliamo nel segno prendo le distanze da questo tipo di interpretazione perché ogni interpretazione storicistica finirà evidentemente per tradursi in una teoria soprastorica quindi viziata per così dire dai germi di quella teologia ideologica di cui lui sostanzialmente accusava gli esiti ultimi del legalismo no legalismo aveva fallito perché aveva come dire messo l'uomo sottosopra l'uomo camminava sulla testa e non sui piedi ovvero le idee vengono prima o verrebbero prima rispetto alle condizioni reali materiali dell'uomo dell'essere umano Marx invece intende studiare l'umanità in quanto tale e dunque rifiuta qualsiasi indicazione di tipo soprastorico o leggi totalizzanti della storia quindi gli storicismi di cui dicevamo prima anche qui la critica di Popper a Marx non gli rende affatto giustizia o meglio va bene è assolutamente indicata aperta l'uneforme di marxismo in particolare quello sovietico se vogliamo ma non ha nulla a che vedere con il Marx storico o meglio il Marx storico sarebbe d'accordo paradossalmente con Popper quindi l'imputato qui si sta difendendo da accuse che non colgono nel segno d'accordo riguardano evidentemente altri soggetti veniamo un attimo al metodo il metodo marxiano è assai rigoroso chi avesse la pazienza la forza di leggersi il primo libro soltanto il primo libro del capitale un mattone di circa mille pagine un libro che hanno letto pochissime persone effettivamente a parte forse alcuni addetti ai lavori è curioso scoprire come non so lo stesso Fidel Castro dichiara ebbe a dichiarare un giornalista in maniera assolutamente candida che lui il primo libro del capitale non se l'era assolutamente letto non era un economista non ci capiva nulla di economia no o che non so lo stesso Ho Chi Minh che era peraltro anche uno studioso abbastanza valido dichiarò candidamente che lui non ci aveva fatto a leggersela tutta la parte diciamo più consistente del capitale del primo libro del capitale quindi è un libro estremamente complesso è veramente per gli addetti ai lavori quindi ogni riduzione semplicistica anche della dottrina diciamo della visione dell'analisi scientifica al contenuto del primo libro del capitale può e risulta effettivamente forviante soprattutto se poi è fatta non sulla lettera di quello che Marx ha scritto bensì è fatta sul sentito dire sulle come dire successive reinterpretazioni che Marx rifiuta come non marxiste invece se questo è il marxismo io sono antimarxista ogni affermazione ecco basta leggersi almeno le parti più importanti del capitale di cui poi dirò qualcosa successivamente da notare con l'andamento proprio del periodare di Marx ogni affermazione è argomentata con il ricorso alla logica matematica Marx fa uso della logica matematica ecco perché il libro è particolarmente difficile da leggere e poi all'uso esemplificativo di prove fattuali tratte dalla cronica contemporanea e dalla storia in generale dalla storia recente in particolare o dalla storia in generale perché la storia la fattualità storica sta all'economia politica evidentemente così come la prova laboratoriale il fenomeno fisico sta alla teoria fisica o all'ipotesi fisica che lo scienziato deve andare a dimostrare quindi ricorso accurato alle prove fattuali citate in maniera assolutamente pertinente e uso della logica matematica questi sono i capisaldi del metodo scientifico marxiano la storia nel capitale piuttosto che apparire ideologicamente orientata alla maniera un pochino della fenomenologia della storia di della fenomenologia di di Hegel evidentemente la fenomenologia dello spirito di Hegel appare ecco utilizzata in maniera analitica ed effettuale un po' la maniera di Machiavelli se vogliamo il ricorso empirico all'analisi di tendenze e controtendenze l'aggiustamento e l'aggiornamento della teoria attraverso un'attività documentale attenta e costante ne confermano la scientificità ecco quindi ancora una volta il paradosso il paradosso cioè Marx sarebbe d'accordo con il fallibilismo popperiano sposerebbe in qualche maniera la teoria metodologica di Popper che anche i marxismi successivi abbiano avuto la capacità di ripensare e correggere teorie di fondo nell'opera di Marx in un certo senso dovrebbe deporre a favore dello stesso Marx e degli stessi marxismi perché abbiamo visto una delle critiche che Popper muove a Marx in realtà le muove ai marxismi consisteva proprio in questo cioè i marxismi avrebbero riadattato di volta in volta l'infrastruttura ideologica della loro teoria per come dire farla aderire ai fatti quindi tu cambi la teoria di volta in volta in modo tale che i nuovi fatti vedi per esempio le vicende di quella che sarà Unione Sovietica che non sono affatto coerenti agli sviluppi che aveva predetto il materialismo storico precedente ecco il fatto di riadattare di ripensare la visione marxista alla luce di noi fatti storici paradossalmente dovrebbe deporre ancora una volta a favore della scientificità del metodo marxiano o marxista che dir si voglia fermo restando che poi sappiamo che le cose non stanno così perché evidentemente se si tratta di scienza pura allora il discorso regge se si tratta di utilizzo ideologico politico da parte di uno stato totalitario uno stato staliniano per capirci evidentemente a quel punto le critiche di Popper colgono nel segno colgono nel segno perché si tratta appunto di una reinterpretazione ideologica strumentale pragmatica finalizzata all'oppressione politica quindi allo schema del totalitarismo staliniano di cui abbiamo già detto Kuhn filosofo della scienza statunitense nomecientesco avrebbe detto così cioè cambiare il paradigma cioè cambiare l'ipotesi di fondo quella marxista per capirci in presenza di alcune anomalie sarebbe antieconomico non avrebbe senso a meno che le anomalie non diventassero così numerose così fondamentali da costringerci a cambiare paradigma dunque Marx in un certo senso non ha nulla a che vedere con i paradigmi successivi che sono quelli marxisti che Popper prende di petto giustamente e sottopone a critica d'altro canto aggiungiamo noi anche la critica rivolta da Popper ai marxismi coglie nel segno fino a un certo punto perché il fatto di aggiustare per così dire il tiro della teoria alle fattualità successive alla storia successiva non è necessariamente un difetto anzi è un per così dire è un'ulteriore prova della scientificità e della validità entro certi limiti del metodo ma vediamo ecco a questo punto qual è il contenuto del capitale del primo libro del capitale perché è lì che andiamo a trovare effettivamente l'essenza del pensiero marxiano è lì che dobbiamo andare a leggere Marx il 28-8 1867 24-8 scusate quindi siamo a fine agosto 1867 Marx ci ha lavorato vent'anni vent'anni di vita e finalmente dopo ripensamenti a più riprese invia il testo del primo libro del capitale all'amico Engels che lo invitava anche negli anni precedenti a sbrigarsi a pubblicare ma dai pubblica ma no ci sono ancora delle cose da rivedere ma dai pubblica sono passati vent'anni al limite pubblicherai una seconda edizione ma Marx non si fa convincere è talmente scrupoloso talmente attento maniacale di fatto che alla fine pubblica quando è assolutamente certo quando ha riverificato ha ricontrollato la come dire la la scientificità la logicità delle sue affermazioni matematiche economico matematiche nonché la correttezza dei fatti che cita Marx quindi scrive questa lettera di accompagnamento all'amico Engels e in questa lettera riepiloga quelli che lui considerava i due temi principali del capitale in primo luogo uno questo è Marx che parla in primo luogo il doppio carattere del lavoro nel quale riposta tutta la comprensione dei fatti subito messo in rilievo nel primo capitolo a seconda che essa che esso si esprima in valore d'uso o in valore di scambio due la trattazione del plus valore indipendentemente dalle sue forme particolari quali il profitto l'interesse e la rendita fondiaria quindi nel materialismo storico non c'è assolutamente traccia a parte non c'è traccia nel primo libro del capitale di Marx ma è lo stesso Marx che dice chiaramente ecco nel mio lavoro io mi occupo fondamentalmente di queste due cose di questi due concetti di queste due teorie ovvero il doppio carattere del lavoro sia che lo si intenda come valore d'uso o come valore di scambio e la trattazione del plus valore queste sono effettivamente le dottrine marxiane e quindi Marx dovrebbe essere giudicato come buono cattivo profeta in base alla validità o meno alla scientificità o meno di queste due dottrine ora le vediamo velocemente vediamo velocemente il significato del di queste affermazioni marxiane allora il doppio carattere del lavoro Marx nel primo libro del capitale si occupa del concetto di merce allora ogni prodotto dell'attività umana poi destinato successivamente ad essere messo sul mercato ha un duplice valore un valore d'uso e un valore di scambio ma supponiamo che in una industria o in una bottega artigianale vengano fabbricate delle scarpe ecco supponiamo che vengano fabbricate delle scarpe ebbene il prodotto finale del lavoro dell'artigiano è un paio di scarpe di cuoio confezionate in cuoio questo paio di scarpe ha immediatamente un certo valore d'uso e il valore d'uso è evidente servono per camminare ma anche un valore di scambio che nel momento in cui allora in sé per sé l'oggetto prodotto prima di diventare merce ha un valore d'uso oggettivo dopodiché quando viene messo in relazione ad altri prodotti quindi viene messo sul mercato per così dire diventa merce assume anche un valore di scambio il valore di scambio del paio di scarpe è relativo ad altri beni che evidentemente vengono scambiati con il paio di scarpe supponiamo che l'artigiano abbia fabbricato il calzolaio abbia fabbricato questo paio di scarpe lo vende lo scambia in cambio di denaro in una certa quantità di denaro perché poi quel denaro lo utilizza per comprarsi supponiamo dei generi alimentari quindi il rapporto qui è il valore di scambio del paio di scarpe è confrontato confrontabile con i generi alimentari questo quindi il significato di valore d'uso e valore di scambio di fatto il valore d'uso per Marx è collegato evidentemente alla quantità che ha la qualità di lavoro di lavoro sociale in senso strato in senso generico che è incorporata al paio di scarpe questo si calcola attraverso diciamo una formula media cioè quanto tempo di lavoro quali abilità quali competenze occorrono per fabbricare in media un paio di scarpe di un determinato tipo ecco supponiamo che per fabbricare quel paio di scarpe occorrano 5 ore di lavoro ebbene il valore del paio di scarpe contiene in sé 5 ore di lavoro dell'artigiano tot e dunque maggiore è la quantità di lavoro che viene incorporato in quel determinato bene materiale maggiore è il valore d'uso di quel prodotto nel momento in cui il prodotto viene messo a confronto con altri prodotti cioè viene immesso sul mercato evidentemente il valore cambia cioè dal valore d'uso si passa al valore di scambio che può essere maggiore o minore di fatto si sta sempre scambiando una certa quantità di lavoro anche se pian piano si perde di vista che il valore di quella merce è sempre basato sul lavoro e quindi la vera scoperta quindi passiamo al secondo punto la vera scoperta di Max è la seguente cioè l'origine del plus valore che si ricava attraverso lo scambio mercantile di un determinato prodotto supponiamo che quel paio di scarpe che a questo punto sono prodotte in una fabbrica quindi non più dal calzolaio dal semplice artigiano ma in una fabbrica che ha una filiera di produzione di scarpe usa il lavoro degli operai il capitalista fabbrica scarpe non certo perché ha bisogno di calzare tanti paio di scarpe ne può anche bastare uno magari a casa ne avrà tantissimi paio di scarpe ma la fabbricazione delle scarpe è finalizzata alla vendita delle stesse scarpe quindi alla collocazione delle scarpe sul mercato in ultima istanza è finalizzata all'ottenimento del cosiddetto plus valore ovvero il capitalista mette sul mercato la produzione giornaliera di una fabbrica supponiamo di 100 operai e deve ricavare da quella vendita innanzitutto il denaro sufficienza per rientrare nelle spese quindi per ripagare i costi della fabbrica e per ripagare il salario dei lavoratori almeno quello che serve ai lavoratori per la loro sussistenza mangiare avere un tetto sulla testa curarsi in presenza di alcune malattie e così via quello che ottiene in più è il cosiddetto plus valore e il plus valore Marx lo indica chiaramente in maniera scientifica deriva dal plus lavoro ovvero da una parte di lavoro che il capitalista non retribuisce all'operaio ecco che cosa significa che se la giornata lavorativa dell'operaio è di 10 ore supponiamo il capitalista si limita a pagare 8 ore di lavoro e 2 ore di lavoro non vengono retribuite all'operaio queste 2 ore di lavoro in più diventano plus lavoro che si trasforma in plus valore ovvero quella quantità di denaro di ricchezza che si aggiunge al capitale iniziale e che forma altro capitale quindi il capitale si genera in questa maniera il capitale non è altro che plus lavoro dell'operaio comunque dello sfruttato da che mondo è il mondo plus lavoro che diventa da concetto astratto viene reificato per così dire nella merce in sé per sé nell'oggetto materiale in sé per sé questo è l'elemento caratteristico del cosiddetto socialismo scientifico questa sì è la dottrina e la visione marxiana di di contro al cosiddetto socialismo utopistico le critiche che Marx aveva mosso ai cosiddetti socialisti utopisti erano proprio queste che loro denunciavano in maniera per così dire filantropicamente corretta umanisticamente corretta denunciavano lo sfruttamento dei lavoratori le cattive condizioni in cui giacevano i lavoratori come se la questione fosse di tipo morale giustizialista per così dire Marx invece al di là di ogni forma di pietismo di falsa morale individua i meccanismi economici reali del funzionamento dell'economia capitalistica che non può non basarsi sulla produzione del plus valore basandosi sul plus lavoro a sua volta sulla distinzione lo abbiamo visto prima tra valore d'uso di un determinato prodotto e valore di scambio del medesimo prodotto trasformato in merce poi Marx distingue due diversi tipi di plus valore il plus valore assoluto e il plus valore relativo insomma ci sono due maniere per estrarre plus lavoro plus valore dal plus lavoro si può o incrementare la durata della giornata lavorativa quindi sostanzialmente far lavorare l'operaio dieci ore e ritribuirlo per sole otto ore che poi era la linea che veniva seguita dalle fabbriche inglesi del tempo anche se evidentemente esistono dei limiti fisiologici oltre i quali non si può andare cioè la paga il salario dell'operaio deve essere comunque coerente a quelli che sono i suoi limiti fisiologici deve potersi come dire ritemprare le forze lavorative perché l'operaio vende in questa economia di mercato colloca sul mercato è quella che è la sua unica ricchezza la sua unica disponibilità ovvero la forza lavoro cioè lui mercifica la sua forza lavoro ma la forza lavoro dell'operaio ha una caratteristica specifica mentre gli altri oggetti hanno un valore d'uso ben definito la forza lavoro ha un valore d'uso come dire molto più elastico ovvero si può lavorare di più si può lavorare di meno può aumentare o diminuire entro certi limiti la qualità del lavoro nonché la produttività quindi la merce forza lavoro ha questa caratteristica non è statica ma è dinamica quindi la si può per così dire sfruttare la si può tirare per la giacchetta ecco il plus valore relativo invece consiste nel diminuire il tempo di lavoro necessario per la produzione della forza lavoro quindi o i standard produttivi la produttività rimane tale e quale e allora aumento le ore di lavoro fermo il stando che le ore in eccesso non vengono retribuite oppure confermo lo stesso orario di lavoro supponiamo otto ore quindi ti pago otto ore ma aumento la produttività delle otto ore di lavoro per esempio beh esempio più più immediato è quello di sviluppare le tecnologie quindi miglioro le tecnologie a disposizione dell'operaio velocizzo la catena di montaggio e dunque per unità di tempo l'operaio che prima mi produceva tot paia di scarpe adesso ne produrrà molte di più la forma immediata della circolazione delle merci è quindi questa è la formula fondamentale m di m m di m laddove m significa merce di denaro cioè la trasformazione di merce in denaro e la ritrasformazione di denaro in merce vendere per comprare è l'esempio che abbiamo fatto prima del calzolaio dell'artigiano il quale produce le scarpe crea le scarpe vende le scarpe acquista del denaro di e quindi il termine medio che poi spende nuovamente per acquistare dei beni di necessità supponiamo beni alimentari accanto a questa forma ne troviamo una seconda differente dalla prima ovvero la cosiddetta forma o formula dmd dove il termine medio diventa la merce il punto di partenza è il denaro e il punto d'arrivo è il denaro dunque dmd può essere presa come formula aggiuntiva a m di m per capirci m di m di allora se all'inizio ci mettiamo il denaro in sé per sé quindi la merce non viene scambiata per ottenere altra merce con un suo valore d'uso ma il denaro viene in sé per sé investito per acquistare della merce che non ha un valore d'uso non ha un valore d'uso ha solo un valore di scambio e questo valore di scambio è finalizzato l'ottenimento di altro denaro ecco questa è la formula tipica dell'economia capitalistica mentre m di m è una formula che si può applicare per esempio anche all'economia feudale se poi togliamo il denaro m da m a m abbiamo un'economia diciamo basata sul baratto ti do il scarpe e tu mi dai un chilo di pane o ti do un tot di carota e tu mi dai un tot di broccoli per così dire quindi nel caso dell'economia standard dell'economia precedente del modello pre-capitalistico si vendeva per comprare qui invece si compra per vendere il capitalista compra acquisisce un tot di merce per venderla e ottenere evidentemente questo plus valore no il denaro nel suo movimento descrive quest'ultimo ciclo si trasforma cioè in capitale diventa capitale ed è già capitale per sua destinazione allora vediamo velocemente queste formule dmd quindi denaro merce denaro la formula tipica del capitalismo nella logica dell'economia capitalistica deve corrispondere a dmd1 dove d1 è uguale a d più n che cosa significa evidentemente il capitalismo funziona in questa maniera quindi io investo del denaro d per acquistare della merce che ha un valore di scambio per ottenere altro denaro ma la quantità di denaro che devo ottenere alla fine del processo deve essere maggiore di n qui abbiamo messo questa cifra n per indicare un numero qualsiasi rispetto al denaro investito originariamente se io investo un milione di euro in una determinata attività è per ricavare alla fine di un determinato processo in un determinato ciclo per rientrare nel capitale investito più l'ottenimento del cosiddetto plus valore quindi devo guadagnare dell'altro denaro quindi d1 deve essere sempre maggiore a d d'accordo n corrisponde effettivamente al cosiddetto plus valore che indichiamo con pv cioè perché alla fine del processo in che modo alla fine del processo ottengo una quantità di denaro o di ricchezze immobilizzate no intendiamo si intendono anche evidentemente i beni che ho acquisito i macchinari che ho acquisito strada facendo perché deve essere maggiore cioè come fa a essere maggiore il perché è abbastanza evidente come fa ad essere maggiore in che cosa consiste n ecco n è il plus valore e il plus valore è sempre plus lavoro cioè da qualche parte all'interno del ciclo all'interno del processo io debbo aver ottenuto del plus valore sfruttando il plus lavoro quindi non retribuendo adeguatamente il lavoro effettuato da questo da quel soggetto su scala su scala locale o su scala evidentemente globale quindi in termini formali se L è la quantità di lavoro impiegata per una determinata produzione e V il lavoro necessario alla riproduzione della forza lavoro il plus valore PV sarà dato dalla differenza PV uguale L meno V che significa che L è la quantità di lavoro complessiva V è quella quantità di ricchezza quella quantità di denaro che serve per riprodurre la forza lavoro cioè serve per all'operaio per così dire per mantenersi in vita cioè il limite in basso del sfruttamento del plus del plus lavoro entro certi limiti oltre a certi limiti non lo posso più sfruttare lo devo sfruttare entro determinati limiti quindi la formula del cosiddetto plus valore è data dal lavoro dell'operaio lavoro del proletario meno la quantità di denaro la quantità di ricchezza che serve per riprodurre la forza lavoro cioè che serve all'operaio per acquistare i beni di prima necessità ecco per capirci poi questa situazione può variare questa formula può essere anzi viene riadattata ai vari modelli di società il funzionamento della logica sottesa a dm di 1 cioè la formula che descrive il funzionamento dell'economia capitalistica prevede che il plus valore tenda costantemente all'infinito quindi pv il plus valore tende costantemente verso infinito e quindi qual è la contraddizione fondamentale che Marx ha individuato nel meccanismo quindi capite che dietro queste formule di logica matematica assolutamente stringenti non c'è diciamo non ci sono argomenti di tipo filantropico umanistico giustizialista o meglio queste rimangono comunque queste idee rimangono comunque nello scenario nella visione del Marx uomo vada sì ma non è su questo punto che va giudicato Marx Marx va giudicato come scienziato cioè come colui che ha scoperto il funzionamento dell'economia capitalistica attraverso lo studio dell'economia politica e ha scoperto la contraddizione le contraddizioni implicite nel capitalismo ma andiamo veloci perché altrimenti questo ci porterebbe via un sacco di tempo ma la contraddizione di fondo cioè il plus valore tende verso infinito e questo tendere verso infinito cozza evidentemente entra in contraddizione con la limitatezza sia dell'umano in generale al di là delle forze umane dell'umano della dignità umana se vogliamo sia dell'ecosistema mondo oggi questo lo possiamo sottolineare con maggiore forza ma già qualche elemento diciamo in questa direzione era presente allo stesso Marx al Marx anche se vada sì Marx ha di fronte uno scenario capitalistico completamente diverso rispetto a quello che abbiamo di fronte noi noi oggi c'è la storia evidentemente ha prodotto altre forme di economia ma la logica di fondo rimane la stessa cioè la contraddizione rimane la stessa il capitale deve sempre crescere deve sempre generare plus valore questo plus valore lo si deve prendere dal plus lavoro e quindi la distinzione tra qualcuno che sfrutta il lavoro e qualcuno che viene sfruttato sostanzialmente permane questa è la logica perversa per cui l'economia a livello di sistema paese o a livello mondiale deve continuamente crescere se non cresce entra automaticamente in crisi produce delle crisi ecco le crisi di cui abbiamo tutti quanti in nozione evidentemente perché le abbiamo sperimentate le stiamo sperimentando sulla nostra pelle non sono fatti per così dire occasionali ma sono per così dire strutturali all'evoluzione stessa del capitalismo è come un moloch che deve sempre consumare ma sempre alimentato ma alla fine finisce con come dire con il bruciare se stesso con il divorare se stesso è una delle caratteristiche fondamentali poi del funzionamento del capitalismo questo lo rileverà anche lo stesso Lenin è proprio il tema dell'imperialismo del colonialismo e poi quello della guerra perché perché uno dei modi per produrre altra ricchezza è distruggere la ricchezza che si è creata distruggere una certa forma di benessere distruggere le infrastrutture distruggere le vite umane per poterne produrre di nuove altrimenti il sistema finirebbe evidentemente con l'incepparsi con l'andare quantomeno entrare avvitandosi su se stesso nelle cosiddette crisi di sovrapproduzione se tutti abbiamo dentro casa due, tre, quattro paio di scarpe il quinto paio di scarpe a chi diavolo lo dovrei vendere beh devo produrre evidentemente dei beni rapidamente deperibili rapidamente deperibili o dei beni che abbiano delle caratteristiche specifiche venderli in base ad altre suggestioni poi sarà la pubblicità il marketing ad incaricarsi successivamente di creare queste suggestioni ma insomma questo discorso ci porterebbe troppo lontano quindi la contraddizione mortale che ha rilevato Marx è insita nella logica stessa del capitalismo il capitalismo tra l'altro è una cosa buona nel senso che il capitalismo ha consentito all'umanità evidentemente uno sviluppo notevole quindi Marx non condanna il capitalismo in sé per sé è semplicemente un sistema economico che però è contraddittorio ha insita un'ultima contraddizione che va superato o andrebbe superata quindi questo è il vero Marx non è quello che chiama suona la tromba e dice andate prendete le armi e date l'assalto al palazzo d'inverno fate la rivoluzione a morte tutti quanti eccetera il vero Marx è lo studioso dell'economia politica uno scienziato di tempra notevole per così dire tanto per dire ecco ho scelto questa immagine sono un'immagine piuttosto suggestiva tanto per dire quanto questa realtà abbia a che vedere con i giorni con l'attualità con i nostri giorni insomma il rapporto che a noi sfugge perché poi la merce diventa per così dire un feticcio ecco una corretta applicazione dell'idea di Marx consisterebbe nel chiederci qual è il reale valore cosa c'è dietro il prodotto quel determinato oggetto che stringiamo nelle nostre mani tutti gli oggetti da cui siamo circondati quotidianamente per noi sono dei feticci sono degli oggetti in sé per sé ma questi oggetti feticci nel senso gli diamo un valore poi che ha a che vedere con la sfera della magia con una sorta sfera teologica quindi le merci assumono un valore metafisico che va al di là della loro come dire consistenza materiale o dell'uso che effettivamente ne facciamo quindi non è tanto il valore d'uso ma il valore di scambio il valore di scambio è collegato spesso all'immagine mentale metafisica che ci facciamo degli oggetti ebbene dietro questo oggetto c'è dietro il smartphone ci sono delle terre rare in particolare il Coltan queste terre rare sono rare per l'appunto non si trovano in tutte le parti del mondo uno dei paesi più ricchi di Coltan al mondo e di altre terre rare è il Congo ex Zaire per capirci ex colonia belga ed ecco quindi c'è un legame chiaro netto ma noi non lo vediamo evidentemente tra quel bambino quella massa di bambini che costretti a raccogliere il Coltan le terre rare in Congo e i telefoni che noi stringiamo tra le mani la ritribuzione la paga del bambino al di là della perversione insita nel lavoro minorile insomma la paga di un piccolo operaio congolese ve lo immaginate è assolutamente ridicola quindi pensate a quanto plus lavoro è incamerato in quell'oggetto e quanto plus valore finisce nelle tasche del capitalista o diciamo del capitalismo internazionale e questo è il sistema attuale in cui evidentemente viviamo ma questo non lo denunciamo Marx non ce lo sta nemmeno denunciando in termini ripeto filantropici o umanistici ci sta spiegando come funziona come si arriva dal bambino che raccoglie le terre rare al telefonino allo smartphone terminiamo con per riassumere il discorso che abbiamo fatto sin qui con questa affermazione Daniel Little uno studioso britannico che negli anni 80 scrisse questo libro il Marx il Marx scientifico Scientific Marx un'opera assolutamente rilevante peraltro caduta nel dimenticatoio è necessario distinguere nettamente la trattazione scientifica del modo capitalistico di produzione dalle altre visioni che Marx offre all'interno della teoria del materialismo storico la finalità della prima è limitata ad un'analisi della struttura economica del capitalismo e non si presta alla società in senso lato Marx ha certo una salda opinione sul futuro sviluppo del capitalismo nonché molto da dire sull'ideologia e sulla politica ma nessuno di questi aspetti è incluso nel nucleo della sua scienza questo è strettamente limitato all'analisi della struttura e delle dinamiche del capitalismo pertanto tracciata questa linea di demarcazione netta distinta si riscontra che la maggior parte dei fatti che Popper ritiene falsificanti quindi che invalidano la teoria di Marx sono in verità irrilevanti questa come dire è la ringa finale abbiamo lasciato a Daniel Little la ringa finale per la difesa dell'imputato Marx ovvero il fatto per così dire non sussiste nel senso che la maggior parte delle critiche che Popper muove a Marx e che riguardano il materialismo storico lasciano assolutamente intoccato quello che è il nucleo fondamentale della scienza di Marx ovvero l'analisi della struttura delle dinamiche interne del capitalismo l'analisi scientifica delle dinamiche interne del capitalismo e dunque Marx reloaded Marx ricaricato è una è una battuta che riprende un noto film una serie di film The Matrix la successiva versione The Matrix che è del 1998 99 è Matrix reloaded quindi Matrix ricaricato una seconda chance a Matrix o meglio a quelli che combattono contro Matrix questo gruppo di patrioti che combatte contro questa mega rete informatica che in un futuro distopico opprime l'umanità e qui abbiamo bisogno di un Marx ricaricato di ricaricare Marx ne abbiamo bisogno oggi come aveva giustamente evidenziato Derrida all'inizio degli anni 90 abbiamo bisogno di Marx abbiamo bisogno di rileggere Marx cioè di incontrare il Marx storico e molti studi diciamo da dieci anni a questa parte stanno riprendendo in considerazione Marx considerate che Marx fino agli anni 80 era uno dei filosofi più studiati si pubblicavano ogni anno migliaia di opere su Marx negli anni 90 e nel primo decennio del ventunesimo secolo lo studio di Marx è caduto in disgrazia anche se Marx è continuato a essere assolutamente famoso non è stato più riletto non è stato più studiato ora dopo la crisi del 2008 2009 quella di cui stiamo ancora purtroppo pagando il prezzo a più di dieci anni di distanza Marx è stato per così dire riscoperto e soprattutto è stato riscoperto grazie a quella distinzione che abbiamo detto all'inizio dell'analisi filologica storico-filosofica accurata delle opere di Marx e in particolare del primo libro del capitale rispetto ai marxismi o alle ideologie che avevano incrostato l'interpretazione di Marx nel corso del ventesimo secolo quindi Marx è sicuramente un grande autore per la sua analisi critica e per il suo metodo di lavoro che è assolutamente valido piuttosto che per le sue presunte profezie anche perché Marx rifiuta categoricamente lo abbiamo visto dando la parola allo stesso Marx il suo ruolo di profeta ci insegna ad oggi così dichiara Curi ci insegna un'attitudine critica radicale demistificante sarebbe interessante capire cosa avrebbe a dire oggi Marx un Marx re di viva avrebbe molte cose da insegnarci ma non riprendendo le sue dottrine o le sue osservazioni che erano evidentemente valide per il diciannovesimo secolo e che adesso ovviamente segnano il passo ma lui stesso rifiuterebbe di applicare considerazioni o di portare esempi tratti dalla storia del diciannovesimo secolo al ventunesimo vada sì non sarebbe da Marx non sarebbe nello spirito scientifico di Marx quindi non si tratta di applicare le formule di una volta ma di crearne di nuove e di come dire sottoporle al vaglio dei fatti cioè vedere se quelle chiavi di lettura marxiane sono effettivamente utili a darci conto della realtà sociologica ed economica in cui viviamo più o meno intrappolati ecco la consapevolezza è assolutamente importante per quanto riguarda i limiti della capacità profetica di Marx ecco gli economisti e in particolare gli economisti neoliberali hanno poco da criticare a Marx cioè potremmo prendere le critiche di Popper a Marx e rivolgerle agli economisti questi guru questi nuovi sacerdoti che affollano gli Atenei di tutto il mondo e che loro non lo sanno forse non lo pensano la gente non lo sa gli crede degli scienziati evidentemente con una forte capacità di orientare di predire di predire per così dire di predire lo svolgimento dell'economia quando incorrono costantemente nelle stesse cattive profezie per così dire che Popper attribuisce a Marx come è possibile che al 100% nella maggior parte dei casi queste predizioni si rivelano sempre costantemente sbagliate ma perché allora quella forma di economia quella corrente è considerata una scienza mentre Marx la visione economia politica di Marx è caduta per così dire dimenticatoio non ha alcun valore di scienza anzi sarebbe tutto obsoleta se è obsoleta l'una è obsoleta anche l'altra e forse dovremmo dichiararci per così dire disarmati di fronte alle alle predizioni economiche oppure ecco potremmo utilizzare al di là di ogni ideologia o di ogni diciamo pretestuosa interpretazione ideologica potremmo provare a utilizzare il filosofo Marx per comprendere per analizzare la realtà in cui siamo immersi e magari pensare e progettare un futuro a Dio piacendo diverso con questo concludo e giudicate voi se Marx da questo processo debba uscire così dire colpevole o piuttosto innocente o innocente con riserva questo lo lascio al vostro giudizio grazie a tutti